Sono certamente quelle di incentivare un turismo di qualità e sostenibile dal punto di vista sociale, ambientale, economico. Per questo è importante anche sperimentare politiche nuove sull'agriturismo, il turismo sportivo, il turismo religioso. Però occorre ovviamente investire sulle infrastrutture e l'Italia è uno dei paesi che subisce di più il divario delle infrastrutture che poi incidono sul turismo. Dall'altro lato però siamo impegnati con i colleghi eurodeputati a trovare anche un punto di raccordo tra il turismo da un lato e il diritto all'abitare dall'altro perché in tutte le città d'arte europee, da Parigi ad Amsterdam a Firenze, Venezia, Barcellona, l'impatto dell'over tourism sul mercato immobiliare, sui servizi, sulla qualità della vita dei residenti, sugli affitti ha un impatto molto preoccupante. Considerate che l'over tourism e anche gli affitti turistici brevi hanno inciso, per esempio, sul mercato immobiliare che in otto anni in Europa è aumentato del 48% in termini di costi a metro quadro e anche in Italia c'è un aumento del 5% su base annua. Se guardiamo il terzo trimestre di quest'anno, Firenze, come tante città d'arte, risente ancora di più di questi problemi ed è questa la sfida che noi lanceremo ai grandi del G7, ai ministri del turismo riuniti a Firenze, cioè come investire su un turismo sostenibile, come legarlo anche ad una politica a favore dei residenti perché il turismo non venga percepito come un problema ma sia un'opportunità.